Musica 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 Lascio stare che tanto qua tagliano Gado, le mangiate il gizzo Ti riscrivete, non tagliarla così Allora, ci siamo? No Ci siamo? Sì Vai 3, 2, 1 Salve a tutti i tachini, sono sempre io Mr. Tai che dopo tantissimo tempo Quanto sarà? 3 mesi 3 o meno Ok Finalmente riesco a registrare No, non riesco Sono stato praticamente Va bene Questo qua è tutto improvvisato ragazzi Quindi non è niente di preparato Come vedete anche la telecamera si sta muovendo a lavorare Quindi è stato tutto improvvisato Bene, bene, è arrivato Me lo do schiccio Praticamente ragazzi sono stato obbligato da loro Ma chi sono loro? Loro Il coglione Sono noi Sono praticamente quelle classiche 4-5 persone barboni che fanno i video con noi su TeamSpeak E sono partendo dalla mia sinistra a destra Su e giù E lui è Leo Grados Eccolo qui Lui è Totten98 Mitico Totten98 E lui in solito è quello che puzza di più Poi c'è Vito il mito e il perverso E poi c'è Raptorzzzzzzzz che è la statuina di questo video Perché sicuramente 99 su 100 di questo video Lo picchieremo A parte quello Però la statuina Allora Questo video per cosa è stato fatto Non per Per cosa è stato fatto Sentite il mio italiano perfetto Non per farvi vedere che sono a mare e non sto facendo un cazzo Anche perché è dicembre e io sto facendo il video in anticipo E poi c'è già l'ha fatto Dicembre 2013 Allora E infatti fa fredo cane E semplicemente Diciamo Mi è stato detto Fai un cazzo di video E fagli dire Dio ai tuoi utenti Cosa stai facendo Cosa sta succedendo E perché non fai video Perché non faccio video Perché Ho una specie di vita Anch'io tecnicamente Non so neanche se adesso si sente l'audio Perché sto vedendo il microfono Alla giù Quel pallino del telefono Quello del telefono Lo stiamo facendo E non ho idea se si sente Quindi si senta Quindi arrangiate Allora Ho avuto un po' di Non di problemi Diciamo un upgrade della mia vita Rimanendo in ambito online Ok? Nel senso Sono andato via da casa mia E adesso sto Non a casa mia Diciamo Sono andato via da casa dei miei genitori E sto a casa mia Ovviamente ho scoperto Che stare a casa Ci sono delle grandi spese Quindi per il momento Non ho una connessione ad internet Come ce l'ho Come ce l'avevo a casa Avevo una connessione Diciamo Discreta Invece adesso Sono col cubetto della 3 Ho 3 giga Quindi non posso uploadare video Quindi mi arrangerò Ehm Ho in progetto di Ovviamente Uploadare Ehm Ecco ovviamente Se ne accorta la cameraman Visto che stava facendo i cazzi suoi Che non prendeva tutti quanti Vi chiedo scusa Della qualità del video Comunque Abbiamo dovuto fare anche Abbiamo dovuto fare di taglia La produzione Ehm Ho intenzione di fare alcuni video Diciamo che non si basano solo online Quindi sui giochi tipo Minecraft Standalone Diciamo Non in multiplayer E poi pubblicarli Mediante un altro computer Quindi diciamo cerco di arrangiarli O il suo O il mio Che è a casa Ehm Ovviamente la telecamera si sta muovendo No 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 Non ci sono terremoti Tranquilli Farà schifo C'ho un nervoso dentro Che mi sta bruciando Che se va da bagno Tipo l'acqua si prosciuga Ehm Ma chi? Ma chi te la chiede? Ma chi te la chiede? Sì sì Quello me ne d'accordo Anche se si sta continuando a muovere Esatto Però va bene Il video Il video verrà uploadato Quindi diciamo Un importante appello Quindi diciamo Volevo continuare la serie di Half Life Diciamo intanto la camera Mi sono rotto le palle Taglia Taglio Anche perchè per arrivare su questi scogli Diciamo Ci siamo ammassacrati i piedi Perché qua? A che cazzo? 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 Una cosa anche importante Che stiamo facendo Attualmente Totte98 E Mi toccare tu Mi tocca Totte98 E diciamo Il supporto Stiamo facendo Protosting Protosting.com Che praticamente È una specie di Divisione Che è nata Dove ci occupiamo Di hosting di videogame Hosting di TeamSpeak Hosting di siti web Vi dicendo Comunque un po' di tutto Quindi se volete visitare anche il nostro sito www.protosting.com Verrà messa anche in descrizione Avremo diciamo Il piacere di ascoltare E anche hosting gratuito ragazzi E soprattutto di server di Minecraft Questo tu non me l'hai ricordato Questo è un pezzo di me Stavo aspettando Cioè io non interrompo Le persone che parlano Che blatano Comunque non Non voglio fare money grabber Non voglio fare lo spoilerone E via dicendo Ehm Si faranno molte cose Quindi Vi lascio con questo Vlog Più meno estivo Perché comunque ci sono le nuvole Non riesco a capire il perché Ma siamo a dicembre Ovviamente ci sono le nuvole Certo Ma perché devi dire Vedi qua la neve Ehm Niente ragazzi dai Penso che da Ehm Glados Totte98 Vitto Che forse sarà Maurizio Costanzo Ehm E Raptor Zzzzzzzzzzzzz E Mesteri Che sarebbe la mia ragazza Che sta riprendendo E la odia tantissimo Perché sta facendo un osso Ciao Sì Ciao Come stai? E' tutto Ciao a tutti Ciao ciao Me ne battupeli Ciao Ciao